Anche quest'anno riaprono le iscrizioni per la quarta edizione di Miss Campi Flegrei. Il concorso di bellezza è realizzato da seratissime eventi che per il quarto anno di fila vedrà protagoniste e giovani modelle impegnate nella competizione per cercare di ottenere il titolo. Novità di quest'anno è le iscrizioni online. Le aspiranti Miss potranno registrarsi gratuitamente compilando il modulo presente sulla pagina web ufficiale. A novità di quest'anno abbiamo bypassato il problema della by night e quindi avranno la possibilità di iscriversi comodamente da casa propria tramite il sito ufficiale internet che è misscampiflegrei.net. Ci saranno dei casting di selezione per accedere poi alla finalissima di luglio. Scopo del concorso? Valorizzare al meglio le bellezze dei Campi Flegrei. Il tutto avverrà seguendo diversi step. Quello dell'iscrizione per l'intero mese di marzo e aprile, i casting che si terranno a maggio per poi decretare la vincitrice nel mese di luglio, che oltre al titolo avrà la possibilità di cimentarsi nuove esperienze nel campo della moda così come è accaduto alle vincitrici delle edizioni passate. Tutte le vincitrici adesso sfilano per grandi etelier e hanno fatto una sorta di carriera e comunque ancora oggi stanno andando avanti. Diciamo diamo la possibilità a ragazze comuni ad affacciarsi nel mondo della moda e lo spettacolo, nella zona flegrea. Per le prime tre classificate premi in viaggi, accessori moda, gioielli e book fotografici, accompagnati dagli ambiti riconoscimenti di Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Fashion e Miss Fotogenica. Sono invitate a partecipare tutte le ragazze del territorio flegreo di età compresa fra i 14 e i 24 anni.